Cari compagni e cari compagne, io penso che in questo clima che adesso Rosa richiamava e che è un clima diverso da altri congressi in cui ci siamo divisi per mozioni e anche da altri congressi in cui magari non ci siamo divisi per mozioni ma le divisioni erano molto più pesanti, vorrei dire una cosa che non era scontata, devo dire per nulla, e cioè a mio parere il congresso finisce meglio di come cominciare, non era per nulla scontato, io temevo che non fosse così, invece credo che vada detto e devo dire che le cose dette da Targetti e da Forenza nei loro interventi, pur dicendo non ci sono le condizioni per una gestione unitaria, ma proponendo una forma che però, la sintetizzo per come la capisco io, non è la costruzione dell'opposizione in una guerra di trincea che prosegue nei secoli dei secoli, ma è il non convincimento, la non condivisione dell'indirizzo politico deciso in congresso, ma l'apertura di una sfida dialettica in avanti sulla costruzione del partito e sullo sviluppo della sua linea, a me pare che questo è un fatto positivo, perché è un fatto molto positivo per una ragione, che io penso che la morte dei comunisti e delle comuniste sta nell'ossificazione delle divisioni, quando invece la vita dei comunisti e delle comuniste sta nella sfida su come si affrontano le novità nel riconoscimento delle novità che si determinano. Ma questo perché, io sono d'accordo con Dimitri, che non ci dobbiamo dividere oggi, non ha senso, tra ortodossi e non ortodossi, o eretici, ma perché noi siamo marxisti e quindi l'essenza del marxismo è una capacità scientifica positiva di aprirsi alla verifica concreta. E allora come è meglio poter chiudere un congresso dicendo, come hanno detto autorevoli compagni e compagni della mozione 2, noi non condividiamo l'indirizzo che avete deciso, ma siamo interessati alla sfida su come si va avanti. Io penso che questo è quello che si può chiedere e che va fatto. E quindi io penso che questo vada detto. aggiungo anche che penso che molte delle cose, degli elementi di fondo ci uniscono. La compagna Forenza citava il film Pride come, diciamo in qualche modo, progetto politico. E io sono d'accordo. Pensate che addirittura Marco Gelmini aveva pensato che Pride doveva essere proiettato diciamo venerdì sera, poi gli ho detto non ce la facciamo, non ce l'abbiamo come tempi. Dico addirittura Marco perché diciamo così a volte nelle contrapposizioni che facciamo non viene preso esattamente come il più frichettone del gruppo dirigente, diciamo come schema. Ma dico questo perché io penso che veramente quel film che credo molti di voi abbiano visto esprime fino in fondo quello che è il motivo per cui noi ci battiamo, cioè di riuscire a costruire una relazione sociale, politica, morale che riesca a unire quello che il capitale divide. Perché quello è di non farsi fottere dal capitale che utilizza tutte le divisioni possibili e immaginabili, anche il senso comune, la long du re direbbero diciamo delle identità, e per riuscire a romperle, a costruire una sintesi in avanti. E quindi io penso che veramente questo è l'elemento unificante, forte, e che credo ci debba dare uno stimolo assolutamente ad andare avanti. Non ci sono problemi? Certo che ci sono, e diciamo così, se non li sottolineassi, non sarei più io. E voglio però aggiungere su questo un elemento perché mi preme anche dal punto di vista delle relazioni personali. Eleonore, io non ho mai pensato che tu volessi sciogliere il partito, mai. Io ho pensato che tu hai fatto un errore politico a dire di sì ad un documento, quello di act che ci veniva proposto sul tavolo della sinistra, e io penso che se il partito avesse accettato la tua posizione, ci saremmo messi nella condizione, dal mio punto di vista, di non riuscire ad andare avanti. Quindi io non imputo a te la volontà soggettiva della volontà di sciogliere il partito, cosa che non ho mai pensato, imputo a te, un errore politico in quel caso, che secondo me avrebbe avuto effetti drammatici. E una contestazione di tipo politico non è una contestazione etico-morale o sul partito. E io penso che dentro un gruppo dirigente bisogna essere capaci a saper discutere di questo senza le scomuniche. Io penso che se noi avessimo, la dico brutalmente, se il sottoscritto si fosse unito al sì di quelle robe lì e non avesse detto no, non ci sto, io penso che non saremmo qui a fare il congresso in questo modo. Questa è la mia opinione. E quindi abbiamo rotto quel tavolo che aveva a quel punto quel documento e siamo qua a riproporre il tema dell'unità perché la modalità lì, con come era previsto, noi non l'accettiamo. perché pensiamo che l'unità va costruita a partire dal riconoscimento del fatto che le identità esistono e noi siamo un soggetto. E quindi vogliamo costruire assieme agli altri ma non siamo disponibili a mettere in discussione il fatto che decidiamo noi che cosa facciamo noi. Non viene affidato a qualcun altro. Perché questa è la sovranità. Però questa è una valutazione politica, non c'entra niente, accuse e quant'altro perché io sono iper convinto che Eleonora, così come sia chiaro, è possibile fare un'obiezione al sottoscritto dicendo l'indirizzo politico che tu hai portato avanti, come molti compagni e compagni fanno, è fallimentare del partito e quindi anche se tu non vuoi ma in realtà stai lavorando a distruggere la rifondazione comunista come mi è stato ripetuto decine di volte. Stiamo dal mio punto di vista nell'ambito della critica politica su questo piano. Sono contento se riusciamo a chiudere questo congresso con più nessuno che accusa l'altro di volerlo chiudere il partito. Perché è un bel passo in avanti. Che ci riconosciamo gli elementi che abbiamo proposto nei documenti che proponiamo in avanti come facenti parte di una dialettica che è parte della stessa comunità che si pone il problema con sensibilità, con opinioni, con culture politiche diverse ma si pone il problema di come si sviluppa questa comunità in un ambito più ampio perché anche qui abbiamo accenti diversi ma non ho sentito posizioni che dicessero rifondazione deve chiudersi su se stessa come il castello che c'è qua sulla rocca. No, tutti diciamo che c'è un problema di relazione esterna certo con toni diversi. E quindi e chiudo questa parte perché peraltro non diciamo siamo in un certo ritardo e quindi eviterò di fare delle conclusioni troppo lunghe e chiudo questa parte dicendo mi pare che questo sia un fatto molto positivo possiamo chiudere il congresso meglio di come l'abbiamo aperto. Questo non vuol dire che sono sanate tutte le contraddizioni. È del tutto evidente che noi abbiamo una memoria non condivisa per quanto riguarda che cosa è successo in questi anni, i passaggi, ce lo riconosciamo reciprocamente. io dico per quanto mi riguarda che dentro il gruppo dirigente centrale non ho nemmeno una memoria condivisa sulle relazioni interpersonali. Lo dico perché sia proprio chiaro. Quindi penso che il congresso faccia un passo in avanti ma è indubbio che questo non avviene a partire da un elemento di sintesi né sul piano del percorso politico che abbiamo avuto per quanto mi riguarda nemmeno sul piano delle relazioni interpersonali nel senso che ci sono opinioni diverse su che cosa è successo anche nelle relazioni tra le persone. Sono state fatte dei rilievi a questo riguardo e io dico non mi riconosco. Riapro? Non riapro. Perché grazie a Dio il fatto che non si vada avanti nei secoli dei secoli è una condizione per poter evitare che le contraddizioni o le contrapposizioni o le discussioni diventino delle faide. E quindi anche per questo è bene che il segretario nazionale cambi. Perché c'è da ricostruire e non tutto è facile che avvenga nella ricomposizione compiuta. Io penso che questo bisogna dirselo. perché se no ci facciamo delle storie che non corrispondono esattamente ai percorsi. E quindi con questo elemento dal mio punto di vista totalmente positivo penso che noi possiamo dire usciamo dal congresso meglio di come ci siamo entrati. Ci sono tutte le condizioni affinché il partito, i compagni e le compagnie e il gruppo dirigente che dirigerà questo partito dopo il congresso possa positivamente sviluppare in avanti un confronto che ad oggi non ha trovato una sintesi. Questo è il fatto. Secondo me aver chiare le cose è la cosa migliore per poterle affrontare positivamente. Seconda considerazione. Il nodo della sinistra è per noi un punto importante. Vorrei che fosse che... Adesso non stiamo a fare le citazioni di Mao. Per me c'è una differenza tra quelle che sono le contraddizioni fondamentali e quelli che sono i punti politici obbligatori come passaggi nell'immediato. Qual è il nostro problema? È la costruzione di un blocco storico, cioè di un blocco culturale, sociale, politico, complessivo, di pride, della ricomposizione complessiva per costruire l'alternativa. Questo è l'obiettivo di Rifondazione Comunista. Che è la costruzione di un movimento costituente che sia contemporaneamente sociale, di trasformazione delle relazioni, del senso comune e di trasformazione delle istituzioni. Perché la crisi della democrazia rappresentativa in cui viviamo non vedrà un'uscita semplicemente con la rianimazione della democrazia rappresentativa così come essa è, ma dovrà per forza passare attraverso la costruzione di istituzioni di movimento e di forme di democrazia dal basso che oggi non sono previste dalla carta costituzionale. Io penso che è evidente la crisi della carta costituzionale di cui parlava Zariti, la crisi della democrazia borghese così com'è, vede una soluzione di destra nella ricerca dell'uomo della provvidenza e nella pratica delle politiche neoliberiste, la destra, ma da sinistra deve vedere un intreccio tra democrazia rappresentativa e costruzione di democrazia partecipata dal basso. Non è che ritorniamo agli anni 60, va costruito una roba in avanti. Quindi il nostro obiettivo è quello, è un blocco storico dell'alternativa, ma il punto politico che secondo me, e non è di destra, io non riesco ad accettare il fatto che venga visto come un punto moderato, il punto politico è, se non esistono dei processi ricompositivi automatici di un blocco sociale alternativo, è necessario per ricomporre e comporre il blocco sociale avere anche percorsi politici e non è di destra, è un fatto obbligato. Questo è un nodo fondamentale. Per questo io chiedo di smetterla di contrapporre la costruzione dell'unità dei movimenti con la costruzione dell'unità della sinistra. Questo modo di guardare rende impossibile, impossibile lo sviluppo del progetto politico di rifondazione comunista che è Pride. Il nostro obiettivo è Pride, per fare Pride, ai dei percorsi sociali, ai dei percorsi politici e ai dei percorsi culturali. Il protagonista di Pride era un responsabile dei giovani comunisti, il compagno omosessuale che muore, era un responsabile dei giovani comunisti inglesi che non avevano nessun deputato ma avevano una certa capacità di fare. Nell'83, quando a Natale, da giovane Cassintegrato Fiat raccolsi con altri compagni e compagne i soldi per andare a portarli a Sheffield, al quartier generale dell'ENUM, del sindacato dei minatori, e andammo su, l'unico contatto che avevamo era un pastore metodista e dal pastore metodista però ci disse, contattiamo questo, Percy Riley, chi è? È un compagno comunista di 65 anni che è in pensione dalle miniere e che fa il babbo Natale davanti ai supermercati per raccogliere i soldi per i minatori in sciopero. Il primo che incontrammo fu un comunista, dei genitori e dei nonni del compagno protagonista di Pride, ma quella è la roba. Allora, lì c'erano percorsi solo sociali o c'erano anche percorsi politici, anche percorsi culturali. In Italia, sempre sto a Pride, ma uno dei giornali che parlò del rapporto tra il movimento omosessuale inglese e i minatori fu Frigider, giornale che non c'entra niente con i trattamenti. Ma perché? Perché la comune, il vedere da parte del movimento omosessuale che i minatori, l'apoteosi della classe operaia maschile, diciamo anche un po' reazione, mettetele tutte, di classe ma anche molto così, erano trattati sui giornali come loro e quella connessione è una connessione sociale, una connessione culturale, ma è anche una connessione politica, perché chi ha fatto quei fili, chi ha tirato quei fili, erano anche i compagni comunisti e le compagne comuniste, i pezzi di sindacato e avanti. Allora, io voglio dire questo, che smettiamola, ma smettiamola in avanti. La dico per scherzo. I compagni del documento 2 vogliono dirci che abbiamo ottenuto una vittoria, dite che è una vittoria, ma usciamo da questo congresso smettendola di contrapporre a livello politico e a livello sociale e diciamo tutti insieme che dobbiamo costruire una sinistra che è la sinistra dell'unità dei movimenti e anche della costruzione di un... questo va fatto. E su questo bisogna, penso io, che facciamo il massimo possibile insieme. Si è detto, usiamo il populismo anche su questo piano? Io penso di sì, sono d'accordo con l'intervento di Campolongo. Assolutamente sì, usiamo il manicheismo del populismo per costruire l'elemento basso contro alto, che è una forma un po' spuria, un po' manichea, è la traduzione più semplice della contraddizione di classe che noi riteniamo essere fondativo del nostro agire politico. Oggi se vai a dire classe operaia contro padroni ti guardano così, se tu gli dici il popolo contro l'elite riesce a spiegarti meglio, io penso che vada usato il linguaggio populista e la costruzione dal basso e dall'altro. C'è un punto che vi richiamo che secondo me deve essere però tenuto fermo e vi chiedo scusa perché vi romperò le scatole dieci minuti su questo, che è la costruzione del noi. Perché? Perché è evidente che il liberismo produce atomizzazione, frantumazione delle persone, produce delle monadi, ognuno chiuso in se stesso e ognuno in concorrenza con l'altro. Il neoliberismo produce atomi sociali in guerra tra di loro. Il neoliberismo per questo è la base della barbarie che stiamo vivendo. Ne ho parlato molto nella relazione, non ci torno. La produzione del noi è la vera domanda. La destra razzista produce il noi nei termini di noi italiani, noi bianchi, noi cattolici, usa questi noi qua. Il populismo è evidente che sta su un bordo. Allora, qual è il punto? Che la produzione del noi operai, del noi comunisti non è identica alla costruzione del noi italiani. Non solo perché una è la contraddizione di classe e l'altra è nazionale, ma perché il noi dei comunisti e il noi degli operai non è un noi che punta alla soppressione degli altri. Il noi dei comunisti e degli operai è un noi che punta alla trasformazione dei rapporti di produzione affinché noi come classe operaia non ci siamo più perché abbiamo superato i rapporti di produzione capitalistici e la classe operaia liberandosi libera il complesso, cioè non riproduce più una forma gerarchica di società. Il nostro obiettivo, la traduco brutale, non è ammazzare i padroni. Il nostro obiettivo è che non ci siano più i padroni perché siamo arrivati a produrre l'autoorganizzazione dei produttori possibilmente a 15 ore la settimana, quindi con la piena occupazione di gente che si autogestisce e l'obiettivo della lotta di classe non è l'uccisione dell'altra classe, è il superamento della dialettica di classe nel socialismo, nel superamento delle classi. La dialettica di tipo nazionale è diversa, la dialettica nazionale è amico-nemico ma è la soppressione dell'altro. Il culmine della dialettica noi costruito sulla dinamica nazionale è lo stupro etnico, cioè io ti stupro e tuo figlio che nasce è mio, è della mia nazione, non è della tua. Guardate che lo stupro etnico è la forma più bestiale del noi-voi costruito sulla base. Allora bisogna saperlo che il tema populista è ambiguo su questo qui, questo è forse l'unico elemento di... Allora noi dobbiamo essere in grado di costruire il noi-voi basso contro alto ma non nella forma differenzialista che possa essere sussunta nella dinamica nazionalista perché se no noi finiamo a fare i servi scemi di Salvini e invece noi dobbiamo costruire la dialettica basso contro alto essendo capaci a tenere al centro l'elemento dialettico e universalista del fatto che noi ci battiamo per la liberazione degli uomini e delle donne, tutti, non dei nostri contro gli altri. Io non so se sono riuscito a rendere, la linea di confine è sottile ma è fondamentale perché un giorno, e forse la cosa principale che ho imparato da ministro, una giovane ragazza figlia di immigrati di Roma che parlava romanesco, tifava per la Roma e cantava gli stornelli romani, mi ha detto io mi ricordo di avere la faccia, il volto nero, di essere nera quando me lo dicono gli altri. Allora il principio del razzismo è la riduzione dell'umanità delle persone a un aspetto solo della loro identità. Tu sei bianco, tu sei nero, tu sei cristiano, tu sei musulmano, tu sei immigrato, tu sei italiano o tu sei padano e avanti così. La riduzione dell'identità a un aspetto solo è il principio fondativo del razzismo che nelle sue espressioni finali è che se tu sei così non sei più umano, tant'è che ti si può infilare nei campi di concentramento e nei forni crematori senza che nemmeno tu pensi di fare un omicidio perché tu non vieni, sei razza inferiore. No? Questa roba qui è il principio. Noi dobbiamo essere attenti che noi dobbiamo costruire una forma di identificazione del basso contro l'alto che sappia utilizzare le categorie del populismo di identificazione facendo attenzione a mantenere al centro l'universalismo comunista della capacità di non ridurre le persone a un aspetto solo dell'identità e quindi a non essere subalterni culturalmente e antropologicamente a Salvini. Perché questa è la scommessa. È una scommessa sottile ma io penso che sia decisiva. Ed è il motivo per cui molti compagni e compagne si scandalizzano ma per cui io sostengo che il Papa da questo punto di vista è un nostro alleato. Perché col Papa noi dobbiamo litigare come cani sulla questione dei diritti delle donne, del riconoscimento e avanti così. Non spendo del tempo, è chiaro. Ma il Papa ha un punto che oggi è decisivo. Che per il Papa esiste il genere umano. Per cui il Papa dice che non puoi trattare benissimo il tuo cane e pensare che se i bambini crepano in mezzo al Mediterraneo chi se ne frega. Perché quei bambini sono tuoi simili. A qualsiasi colore della pelle abbiano, qualsiasi religione abbiano i genitori. Questo nodo dell'umanità è un principio costitutivo della possibilità di costruire il socialismo. Il socialismo in questo è un umanesimo in cui risolvendo i problemi economici delle persone permette agli uomini e alle donne di esprimere fino in fondo liberamente la loro e di costruire la loro individualità. Questo è il socialismo. Allora in questo senso io penso che noi dobbiamo saper costruire la sinistra dall'alto e dal basso, sapere stare dentro il percorso di costruzione di identità del popolo stando dentro anche tutte le ambiguità ma con la testa da comunisti che sanno che il nostro nodo fondamentale è la costruzione di un universalismo in cui la liberazione degli uomini e delle donne è il nostro principio. E che quindi ogni cosa che usi di falsa coscienza, la nazione, la patria e tutto il resto, devi stare molto attento a non finire alla fine in braccio a quegli altri, in braccio alla barbara. Terza cosa, sono molto più rapido, è stato citato il tema del lavoro di cui io praticamente non ho parlato in relazione che era una relazione a spot. Io concordo molto sul fatto che il nodo della riduzione drastica del tempo di lavoro necessario per produrre le merci che permettono alla gente di vivere è oggi un tema fondamentale. Noi la possiamo guardare in due modi, è un dramma perché i padroni usano la riduzione del tempo di lavoro necessario per far lavorare di più quelli che lavorano e tenere fuori milioni e milioni di persone. E loro lo fanno dicendoti il lavoro non conta più nulla, vi possiamo sostituire quando vogliamo, non abbiamo bisogno di voi. Questo ti dicono tutti, il lavoro non vale niente, è così abbondante che posso non pagarlo, anzi tu devi fare i curriculum, le cose e avanti senza essere pagato e ringraziare perché alla fine potrai andare da qualche parte a dire ho già fatto dieci anni di lavoro non pagato, per favore assumimi. No? E questo stanno dicendo. Ma per questo c'è una crisi del sindacato, perché il sindacato alla fine è la contrattazione del prezzo della forza lavoro e se la forza lavoro è una merce così abbondante che i padroni te la possono trattare come se non ne avessero bisogno è difficile organizzarla. Ma per questo c'è la politica. Per questo non basta il tema del sindacato, c'è la politica. Ma allora la politica qual è? Noi o diciamo come Bill Gates che bisogna tassare i robot o noi diciamo il fatto che la produttività del lavoro è aumentata è un fatto positivo. È solo che invece che usarla per i padroni, per i cazzi dei padroni, bisognerà usarli per l'umanità, cioè far lavorare la gente due ore al giorno. Punto. Perché è un fatto positivo che bisogna faticare di meno per poter vivere. Non è negativo. Non è negativo. Capisco che uno mi dice sì, bravo te, ma io che perdo il posto di lavoro? Ma badate che noi dobbiamo stare in ogni fabbrica a fare la lotta per il posto di lavoro, contro la delocalizzazione. Ma ci mancherebbe. Ma noi quegli operai con cui dialoghiamo. Gli proponiamo di fare una battaglia contro per tornare indietro o gli proponiamo di fare una battaglia per la riduzione drastica dell'orario di lavoro, per l'abolizione della Fornero e per dire quella ricchezza sociale ce ne vogliamo appropriare tutti noi. Badate che noi oggi siamo su un crinale in cui non sempre queste due cose sono così chiare. Io penso che i comunisti e le comuniste devono scegliere la seconda strada con nettezza. Perché è la condizione, perché noi siamo in grado di fare un discorso in avanti e non indietro. I discorsi all'indietro non sono possibili. Sono delle utopie reazionarie che alla fine producono disastri. Non si può. Non si può. E allora io penso che noi dobbiamo essere capaci dentro questo dramma dell'espulsione dei lavoratori di fare una battaglia che rimetta al centro il tema della riduzione dell'orario di lavoro, non come obiettivo sindacale, come nodo fondativo della possibilità del genere umano di usare positivamente le conquiste che si sono fatte. Ma questo è il comunismo, secondo me. Qualcuno dirà questo è il riformismo, ma stiamo scherzando. Vi è chiaro a tutti perché i padroni fanno così e invece che ridurre l'orario di lavoro concentrano? Perché il capitalismo è basato sull'estrazione del plus valore. E più tu riduci il numero di ore lavorate e più il capitale c'ha qualche problema, perché è un enorme investimento in capitale fisso e si continua a ridurre il capitale variabile, quello che Marx chiama il capitale variabile. Cioè la base su cui tu estrai il plus valore è infinitesima rispetto all'investimento complessivo. Il capitale oggi ha qualche difficoltà a riprodurre il rapporto di valore dentro questo che è il suo sviluppo. Questa è la contraddizione del capitale, per questo siamo comunisti, perché pensiamo che il capitalismo non è in grado di andare avanti, non è in grado di riprodurre se stesso dentro a questa roba qua. Vuol dire che c'è il socialismo dietro la porta? No, sarebbe una visione del mondo in cui il mondo sarebbe così, che c'è il socialismo che è la normalità, uno stato di natura. Poi c'è un capitalismo che è una cosa artificiale, se crolla il capitale viene fuori la cosa vera che è il socialismo. È una cazzata. Il modo di produzione capitalistico è la forma concreta in cui la gente vive. Questo modo di produzione oggi batte in testa, cioè hanno avuto uno sviluppo enorme, non sono in grado di mediare la ricchezza che hanno prodotto. Batte in testa. Qual è la cosa più semplice che capita? Che distruggano capitale, cioè che facciano una bella guerra, una bella massacrata, che distrugge capitale e permette di ricominciare il ciclo. Forse o forse no, ma loro non sono in grado di far altro. Per questo diciamo che noi dobbiamo spingere in avanti, ponendo il problema dell'alternativa tra socialismo e barbarie e diciamo oggi per la prima volta nella storia l'umanità può uscire dallo stato di bisogno e può utilizzare le conquiste che la scienza, la tecnica, il general intellect avrebbe detto Marx, lo sviluppo delle forze produttive avrebbe detto qualche altra tradizione, permettono all'umanità di uscire da questa situazione. Per uscire da questo serve la riduzione dell'orario di lavoro, serve la ridistribuzione del lavoro come punto fondamentale. Dentro questo c'è il reddito minimo, la ridistribuzione dei soldi è altro che il riformismo, ma il nodo fondamentale è la distruzione del rapporto di valore che c'è dentro quel meccanismo lì. Ma questo è il modo di parlare del comunismo, cioè di dire usiamo le conquiste dell'umanità a favore dell'umanità, invece che distruggere l'ambiente, fare le guerre e fare il razzismo socializziamo questo. Io penso che noi dobbiamo guardarla, vi inviterei a guardarla così, cioè se dobbiamo uscire dalla resistenza come partito e se dobbiamo essere capaci di proporre il tema dell'unità a sinistra in avanti e non chiuse, ma anche rispetto al mondo, noi dobbiamo guardarla a positivo. Questo è un mondo che fa schifo perché il capitalismo utilizza le cose buone e le trasforma in cattive, ma questa è anche la dimostrazione che può essere spiegata a livello di massa per cui il capitalismo non è più utile. Il capitalismo ha esaurito la sua spinta propulsiva, bisogna usare la frase di Berlinguer non per il socialismo ma per il capitalismo, solo che dovremmo capirlo noi per primi ed essere capaci a spiegarlo fuori, perché altrimenti capita che il problema dei comunisti e delle comuniste è che non sono in grado di spiegare agli altri perché oggi ci sarebbero le condizioni per cambiare le cose e che quindi il tema della sconfitta diventa l'unica cosa che c'è e l'unica alternativa pare essere quella che si lega alla longue durée delle identità nazionali, religiose e tutto il resto. Se noi vogliamo evitare questo dobbiamo essere capaci di proporre il tema della trasformazione non come ritorno all'indietro ma come sviluppo dialettico a positivo di quelle conquiste che sono il frutto dello studio, del lavoro di milioni e di miliardi di proletari. Questo è, questo è. Allora io penso che questo noi dovremmo avercelo più chiaro, più chiaro. Qualcuno chiamerà un'ambulanza a un certo punto di questo mio discorso perché dice ma cazzo stiamo messi malissimo, ci stanno facendo un fondo schiena parla pioggia. Ma noi o siamo capaci, ma non per una roba religiosa, vi prego di credere io sono cristiano per cavoli miei non c'ho bisogno di altre cose diciamo di giustificazioni per andare avanti. Io penso che il senso della battaglia è sul materialismo storico ma penso che oggi noi non possiamo essere così fessi da farci abbagliare dalla forza del capitale che però viaggia sul ghiaccio sottilissimo e che non è in grado di dare una risposta all'umanità che non sia la barbarie. Se noi non riusciamo a dire questo noi non riusciamo più a dire perché bisogna diventare comunisti, non rimanere, diventare comunisti perché il comunismo è l'unica possibilità per l'umanità di non finire nella terza guerra mondiale, non so se è chiaro, o siamo capaci a spiegare questo o non abbiamo più niente da dire perché la battaglia al giro prima l'abbiamo persa, quella lì l'abbiamo persa, ma o siamo in grado di porre il tema di vincere la prossima, ma vincere la prossima vuol dire porre questo tema, o si supera la logica del profitto oppure finiamo nella terza guerra mondiale, che ci sia Trump o ci sia la Clinton, non so se è chiaro, non so se è chiaro, che sia uno o l'altro, finiamo io. Allora questo a me piacerebbe che noi ce l'avessimo forte perché l'orgoglio di essere del partito della rifondazione comunista e dell'essere comunisti e perché i nostri si sono battuti nel corso dei decenni, non hanno tradito, ci hanno permesso di essere qui in nome di una lunga battaglia, ma se non vogliamo rendere vane le morti di quelli che stanno alle nostre spalle, noi dobbiamo essere capaci a tradurre in un linguaggio comprensibile perché oggi non si può, ma bisogna essere comunisti, questo è il problema, questo è il problema e lo possiamo fare in una situazione difficile ma in cui ancora nessuno arriva a darmi l'olio di ricino appena avrò finito il discorso e quindi abbiamo più agibilità che altri compagni e compagne che stavano in un periodo molto peggio. Finisco, chiedo scusa l'ho fatta lunghissima, finisco sulla questione del partito perché io penso che tutto questo funziona se c'è il partito che funziona perché noi dobbiamo costruire la relazione avanti ma poi o c'è una comunità, una collettività, un organismo, un intellettuale collettivo, no per adesso ce la faccio ancora, cercano di darmi il Polonio. La battuta era sua, se no vengo, se non cito l'origine. Questa cosa del partito è un punto decisivo, penso io, per un motivo, le classi dominanti non hanno bisogno di avere un'organizzazione politica che tenga assieme tutto. Perché? Perché loro hanno i think tank, i posti dove ci sono quelli che pensano, pagati per pensare, poi ci hanno i direttori di impresa, i direttori di banca, i governatori, le cose che passano col sistema delle porte girevole, cioè loro hanno una produzione della classe dirigente capitalista, che è una produzione molto significativa, che è ben pagata e che riguarda sia le condizioni concrete che hanno dentro il ciclo lavorativo, chi dirige, i manager strategici, avanti, e sia intellettuali comperati, cioè i cervelli che si mettono a lavorare, perché un conto è fare il professore di liceo e studiare nel pomeriggio Marx e tutto il resto, e un conto è guadagnare 100.000 euro all'anno, 200.000 euro all'anno, diventare docente universitario, preside, sono cose diverse, sono cose molto diverse. E loro si sono comperati un bel pezzo dell'intelligenza, perché tu scrivi su quel giornale se dici certe cose, e avanti così, pensate a come era gli anni 70, in cui la maggioranza degli intellettuali italiani era più legata al pc che non alla destra, pensate a cos'è oggi l'intellettualità italiana, a che cosa sono oggi i cantori, i nuovi intellettuali disorganici, inorganici, negativi, che stanno in televisione, che paghiamo 600.000, 700.000, quella roba lì che fanno opinione, sono un pezzo di quel circo bar non pagato da questi, perché il capitalismo, che non sarebbe in grado di tenere il consenso della gente, ha bisogno della produzione di un enorme apparato ideologico che assume le forme non dell'ideologia, ma del divertimento e di tutte le cose, e avanti così, questo sono loro. Ma per combattere quella roba lì, tu non puoi mica fidarti alla spontaneità, tu devi costruire un organismo non imbecille che tenga assieme dalla riflessione alla pratica sociale, non imbecille perché è difficile essere sconfitti e riuscire a continuare a ragionare non tirandosi l'elmetto sulla testa, e questo secondo me è il principale elemento positivo di rifondazione comunista, che io penso che noi oggi siamo più piccoli di ieri, ma non siamo più fessi di ieri. Guardate che è un fatto enorme, perché è un rischio drammatico. Un mio padre spirituale, diciamo così, diceva la setta e la lava pietrificata del risveglio, secondo me la definizione è esatta. Cioè la setta e la lava, quindi la prima fase buona, poi si pietrifica e rimane lì. Noi non siamo una setta. Anche il tipo di litigi che abbiamo al nostro interno non è di tipo settario, è su che cosa fare. Quindi è positivo. Noi dobbiamo ipervalorizzare questo. Quindi io penso che il tema del partito sia il tema fondamentale per riuscire a far politica. E in questo la capacità, ve la dico in forma brutale, così ci sarà qualcuno a cui sto sulle scatole in più di quelle di prima, ma io la... badate che per me la difesa del partito della rifondazione comunista è prima ancora che per voi, io la faccio in nome di che cosa può essere il partito della rifondazione comunista. Per chi qua non c'è. perché o noi nella nostra limitatezza, nelle nostre pochezze, siamo capaci a tenere aperto uno spazio possibile per chi oggi è più giovane e avanti per diventare comunista e trovare un luogo in cui maturare positivamente, oppure che noi non siamo sufficienti per fare la trasformazione sociale in Italia, lo vede chiunque. Siamo all'altezza? No. Infatti io rispetto al bilancio che facciamo, io mi verrebbe da dire che quasi tutte le critiche che vengono fatte sulla nostra insufficienza, io le condivido tutte, non è che c'è qualche critica che non condivido, anzi sarei in grado di farne qualcuna in più a occhio. Il punto è però in una condizione in cui nessuno che ha fatto le rotture con rifondazione è andato molto meglio. E in una condizione in cui i partiti vengono desertificati, che io considero quasi miracoloso che noi siamo riusciti a tenere in questa forma questa cosa qui, che è del tutto insufficiente, ma che tiene aperta la porta. Che tiene aperta la porta. E, come ho già detto nella relazione, lo ripeto, il cambio di segretario è utile ad aprirla un po' di più quella porta, non di meno. Perché noi non dobbiamo conservare la lezione di Mazzetti venerdì sera. Il nostro problema è che noi non possiamo conservare quello che siamo. Noi possiamo essere efficaci se a partire da quello che siamo siamo in grado di innovare, di sperimentare, di aprire anche qui il tema della discussione dopo il congresso tra le mozioni per non rimanere chiusi. Quindi io penso che questo lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare con una capacità di fare più studio, di fare più inchiesta, di essere più capaci ad organizzare, a diventare interessanti e ad organizzare, a formare avanguardie di lotta, a connetterle avanguardie di lotta, a valorizzare il lavoro sul partito sociale. Cioè tutte le cose che ci siamo detti. Perché noi dobbiamo essere capaci a produrre un modo di fare politica che non sia assimilabile alla schifezza che oggi è diventato il fare politica agli occhi di milioni e milioni di persone. E quindi se noi riuscissimo a diventare quelli che un tempo con Berlinguer dicevano i comunisti sono quelli onesti che non rubano, oggi non è più sufficiente. Per cui primo che ci devono dire i comunisti che sono quelli onesti va conquistato. Secondo se fossimo anche che i comunisti sono quelli che non si limitano a dire che bisogna cambiare le cose, ma che ti danno una mano a mangiare se tu non riesci a mangiare o a tirare su il modo in cui vivere quando c'è il terremoto. Cioè che i comunisti sono quelli non solo che dicono che bisogna fare le lotte, cambiare avanti, ma sono anche in grado di darti una mano ad organizzarti. Io penso che questo sarebbe un passo che noi riusciamo a fare enorme. perché noi dobbiamo diventare un partito, dobbiamo diventare, non mantenere, dobbiamo diventare un partito comunista che sia in grado di inventare un modo di fare politica che sia capace a comunicare la forza del nostro messaggio dentro un contesto di crisi della politica. Di crisi della politica. Questo noi lo dobbiamo, vuol dire questo lavorare sul partito, sui linguaggi, sulle capacità di innovazione e tutto il resto. Sapendo che non potremo fare tutto da soli, ma che noi dobbiamo andare in questa direzione. Per questo c'è bisogno di curare tutti gli aspetti, dalla formazione alla cultura, per questo c'è bisogno di curare l'aspetto finanziario. Senza soldi un partito non sta in piedi. Se noi riuscissimo a raddoppiare il 2 per 1000, cosa non impossibile, cosa non impossibile, noi potremmo uscire da una situazione drammatica. Da segretario penso di aver deciso in otto anni forse cinque manifesti e di aver fatto negli otto anni forse dieci volantini. Perché? Perché noi non abbiamo i soldi per stampare i manifesti e i volantini. Noi in questi anni, io sono partito che avevo, dipendenti del partito, 160 tra compagni e compagni. Uno degli assilli maggiori è stato di come riuscire a passare a dieci senza avere troppa gente che andava sui tetti perché quello avrebbe fatto notizia. Perché da 160 a 10 è complicata. Questa fase che si identifica per certi versi con la segreteria del sottoscritto è la fase della riduzione drammatica del partito e della non avere i soldi per poter far politica. Io, se devo dire una delle cose positive, è che oggi siamo nella condizione di essere molto più piccoli ma di poter ricominciare a far politica perché abbiamo ricominciato a stampare qualche volantino e qualche manifesto perché siamo nella condizione di farlo. Abbiamo chiuso un ciclo e dice ma non ti è andata benissimo dal punto di vista del... Penso che io. Ma capita nella vita. Serve anche quello. Serve anche quello. Perché che oggi tu sia nella condizione di poterti porre l'obiettivo? Per me questo è il punto forte. Per cui quando io faccio una valutazione della cosa dico siamo più forti o più deboli di otto anni fa? Noi sul piano del partito siamo più deboli. Ma, chiedo io, siamo nella condizione finanziaria di poterci mettere a risalire oppure no? Penso di sì. Siamo nella condizione morale interna al partito di non avere contraddizioni e di poter sviluppare perché avete retto tutti senza avere nessuna prospettiva di carriera? Sì, siamo moralmente più forti di prima. Fatemelo dire. Terza roba. Siamo dal punto di vista del patrimonio simbolico. Oggi rifondazione comunista c'ha molto meno conosciuta di dieci anni fa. C'ha qualche elemento in più di credibilità tra quelli che... Sì. perché badate che otto anni fa, nove anni fa, eravano diventati dal punto di vista dell'immagine pubblica una roba non bellissima da guardare. Non bellissima da guardare. Con rilievi pesantissimi del siete come tutti gli altri. Perché 1, 2, 3, 4 e per buon gusto non fatemi dire cosa c'è dietro 1, 2, 3, 4. Ma è evidente che oggi così non è. Allora io penso che questo dovremmo valorizzarlo tutti assieme e cercare tutti assieme di sviluppare questo. Facendo con molta cura quello che qua mi permetto di dire a me parrebbe un terreno unitario. Le cose che sono scritte al fondo del documento 1 su cosa fare del partito a me paiono un terreno unitario. Perché lì si parla dello sviluppo del mutualismo, della formazione, dello sviluppo della comunicazione, tema fondamentale su cui noi non abbiamo quasi niente di lavoro. Si parla del radicamento sociale. A me pare che si parla di temi su cui siamo effettivamente tutti d'accordo. Allora io penso che quelle robe lì, che ci sono anche nel documento 2, perché quelle cose lì noi dovremmo provare a farle. A superare una situazione che ci viene imputata correttamente di dire ma fate la conferenza d'organizzazione e decidete 15 cose magari giuste e poi non si fanno. Ecco, se noi riuscissimo a porci la sfida unitaria sul riuscire a fare le cose che in comune troviamo, sul partito io penso che veramente possiamo aprire una pagina nuova e che credo la dobbiamo aprire tutti assieme. Chiudo solo con una cosa che riguarda le relazioni. Vi ho ringraziato già nella relazione per l'esperienza magnifica che mi avete permesso di fare e vi ringrazio ancora. Vorrei ringraziare in particolare poi due persone. Una è Wolfango con cui ho fatto qualche centomila chilometri nel corso di questi anni e che ringrazio tantissimo per... e non voglio aggiungere altre parole. E l'altra persona è la persona con cui... che ha condiviso larga parte di questi dieci anni con me si chiama Angela che ha fatto molto. Ha fatto molto. oggi io Angela non stiamo più assieme. È stata una bella storia d'amore che è finita ma penso che la debba ringraziare perché diciamo così... grazie. 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 grazie a tutti. grazie. grazie. grazie compagni e compagni e compagni. grazie compagni e compagni vi prego di prendere posto perché abbiamo da fare subito delle cose qui. subito, subito, subito. grazie a tutti e compagni 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 e